Ciao! Faccio questo video perché vedo molto spesso tante persone che si arrabbiano con se stesse proprio a causa dei propri limiti. I limiti non vanno odiati e non serve che tu viva con il senso di colpa, tutt'altro. I limiti hanno una loro funzione. Hanno la funzione di farti vedere dove sei arrivato fino a quel momento affinché tu possa vederli, tu possa amarti e avere compassione anche per le tue limitazioni umane, le tue limitazioni a livello di pensiero, di credenze e perché tu possa scegliere di superarli e di andare oltre e di far emergere la tua parte migliore. Quella parte di te che va oltre tutti quelli che sembrano dei punti invalicabili, dei limiti invalicabili nella tua vita per poter esprimere tutto quello che tu sei, il meglio che tu sei, il divino che c'è in te. Bene, quindi la prossima volta che tu senti di avere un limite, che ti senti bloccato in qualcosa e avresti veramente piacere di andare oltre, piuttosto che far salire in te il senso di colpa, amati e portati amore intanto per quello che tu sei, per esserti permesso di vedere quel limite e poi piuttosto che vivere nel senso di colpa, lavora su di te se vuoi puoi usare la Divine Connection che sta aiutando tantissime persone proprio a valicare quelli che sembrano dei limiti invalicabili. In questo modo tu ti permetterai di amarti e di andare oltre affinché tu possa sorgere ogni giorno come la versione migliore di te stesso. Bene, quindi se non conosci ancora la Divine Connection, leggi il libro Divine Connection e iscriviti al gruppo. Ti aspetto, ciao, un abbraccio da Patrizia. Grazie.